Buonasera a tutti e benvenuti al secondo appuntamento con l'Astrococtail di Polaris. Questa sera abbiamo cambiato il format e vi proponiamo un'interessantissima intervista. Il nostro vicepresidente Luigi Pizzimenti ha intervistato il dottore Albino Carbognani, ricercatore dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, presso l'Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna. Il dottor Carbognani è un grandissimo esperto di corpi minori del Sistema Solare. Per il lavoro sugli asteroidi Near Heart, asteroidi appunto vicini alla Terra, nel 2013 ha vinto lo Schumacher Neo Grant della Planetary Society. E' stato inoltre accreditato nel 2007 dal Minor Planet Center per la scoperta di un asteroide, l'asteroide 335853 Valle d'Aost. In questa intervista ci parlerà proprio di questi interessantissimi oggetti. Ci spiegherà che cosa sono, il loro grande interesse scientifico e ci darà un'informativa chiara e molto interessante sulle più recenti scoperte, relative proprio a questi piccoli oggetti. Bene, non voglio rubare altro tempo all'intervista. Vi ricordo che potete sempre trovare tutte le informazioni relative alla nostra associazione e alle nostre attività, sia sul nostro sito www.astropolaris.it che sulla nostra pagina Facebook Astro Polaris Genova. E, sorseggiando il mio immancabile aperitivo, vi auguro una buona visione e vi aspetto per il prossimo Astro Cocktail del 21 maggio. Buona visione e buona serata a tutti. Ciao ciao! Oggi, nell'Astro Cocktail di Polaris, parliamo di corpi minori del Sistema Solare e ne parliamo con Albino Carbognani, ricercatore presso l'Osservatorio Astronomico di Bologna dell'INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica. Buongiorno e benvenuto, Albino! Buongiorno a voi e grazie per avermi invitato! È sempre un piacere parlare con te. Per chi non lo conosce, Albino Carbognani si occupa dell'osservazione delle orbite, dei satelliti artificiali che si muovono attorno alla Terra, ma è soprattutto un profondo conoscitore degli oggetti più piccoli del Sistema Solare che si muovono fra i pianeti. Quindi la prima domanda, che cosa sono i corpi minori del Sistema Solare? Perché sono così importanti? Ma soprattutto, è veramente giusto chiamarli minori? Sono minori per importanza? Beh, ecco, è una bella domanda. Dunque, innanzitutto, diciamo, i corpi minori del Sistema Solare sono un po' tutto quello che non sono i pianeti e i satelliti. Quindi, fra i corpi minori, è una classe eterogenea che comprendono asteroidi, comete, meteoroidi e, se vogliamo, anche bolidi. Quando i meteoroidi cadono nell'atmosfera terrestre e sviluppano delle scie di plasma incandescente e quindi diventano quelli che gli astronomi chiamano dei fireball, dei bolidi. quindi è una classe eterogenea di corpi ma in comune tutti quanti hanno il fatto di essere dei campioni del Sistema Solare dei pezzi del Sistema Solare inalterato di com'era 4-5 miliardi di anni fa. Quindi è importante studiare questi oggetti perché ci danno informazioni su come era fatto e su come si è evoluto il Sistema Solare su un arco di tempo di circa 5 miliardi di anni. Quindi asteroidi, comete, meteoroidi diciamo, pur essendo classificati in scatole diverse in realtà sono un'espressione dello stesso fenomeno sono uno stesso fenomeno visto da punti di vista diversi e il fenomeno è sono i residui della formazione dei pianeti avvenuta miliardi di anni fa. Ecco, hai accennato che sono i residui della formazione del Sistema Solare ma quindi da che cosa sono formati? Sono formati dello stesso materiale che costituisce i pianeti? Beh sì, sostanzialmente sì. Diciamo, fra la Terra e gli asteroidi oppure le comete c'è uno stretto vincolo di parentela ma qual è la grande differenza? La grande differenza è che mentre il materiale che compone la Terra è stato riciclato, fuso differenziato dal punto di vista gravitazionale e quindi è stato rimescolato con altro materiale eccetera e quindi diciamo non è più il materiale originario di quando si è formata la nostra Terra nel caso degli asteroidi delle comete visto che sono oggetti molto più piccoli dei pianeti non hanno quasi subito un'evoluzione di tipo chimico-fisico a parte le collisioni che diciamo quelle sono inevitabili e quindi diciamo sono proprio degli oggetti praticamente poco alterati da miliardi di anni a questa parte però sono fatti degli stessi elementi che abbiamo qui sulla Terra quindi negli asteroidi troviamo rocce, troviamo metalli sulle comete abbiamo una certa percentuale di ghiaccio d'acqua di ghiaccio di alidride carbonica di ossido di carbonio e così via quindi gli stessi elementi chimici che abbiamo qui sulla Terra e che abbiamo studiato con le tecniche della chimica della fisica eccetera li ritroviamo poi su asteroidi, comete, meteoroidi e quant'altro e ci sono diversi modi per diciamo così stabilire questa fratellanza chimica una ad esempio è studiare la luce che comete, asteroidi eccetera riflettono verso la Terra quindi utilizzare delle tecniche spetroscopiche in questo modo è possibile capire di che cosa sono fatti questi oggetti e si vede che effettivamente c'è una perfetta concordanza tra gli elementi chimici che compongono asteroidi e comete e gli elementi chimici che compongono la Terra ovviamente le percentuali sono variabili ma diciamo gli atomi sono della stessa natura quindi non ci sono elementi chimici esotici strani solamente presenti sugli asteroidi e sulle comete che invece non ci sono sulla Terra proprio perché derivano tutti quanti quindi Terra, asteroidi e comete dalla stessa nuve protoplanetaria che 5 miliardi di anni fa ha dato origine a tutti i pianeti del sistema solare e quindi anche a asteroidi e comete bene, quindi abbiamo visto che sono sostanzialmente imparentati con i pianeti però sappiamo che i pianeti sono pochi sono solo 8 nel sistema solare invece di questi oggetti minori ce ne sono tantissimi e sono molto svariati come dimensioni da quelli molto più piccoli a quelli che sono grandi anche decine o centinaia di chilometri quanti sono esattamente? si può sapere? beh, il loro numero esatto fra asteroidi, comete e meteoroidi in realtà è difficile nessuno lo sa esattamente diciamo che nella fascia principale degli asteroidi quella regione di spazio grossomodo delimitata tra le orbite di Marte e di Giove sono presenti circa un milione di asteroidi conosciuti con dimensioni che vanno da qualche centinaio di metri fino ad alcune centinaia di chilometri il più grosso asteroide della fascia principale è l'asteroide Vesta che ha un diametro medio di circa 550 chilometri poi in realtà ci sarebbe anche un oggetto di dimensioni superiori che è Cerere ma è un oggetto di mille chilometri di diametro ed è considerato un pianeta nano più che un asteroide quindi diciamo un'altra classe di oggetti intermedia tra i pianeti e gli asteroidi veri e propri e in realtà diciamo la distribuzione degli asteroidi dipende dal diametro più piccolo è il diametro maggiore il numero di questi oggetti e questo riflette proprio la loro diciamo così evoluzione collisionale gli asteroidi della fascia principale hanno subito delle collisioni reciproche si sono frammentati in tanti pezzi e è esperienza comune che quando ad esempio spacchiamo un sasso con un martello sono pochi i frammenti grandi e mano a mano che si diminuisce con le dimensioni i frammenti diventano sempre di più per gli asteroidi è avvenuto un pochino la stessa cosa quindi gli asteroidi più piccoli sono tantissimi rispetto a quelli più grandi quindi diciamo quando parlo di un milione di corpi non si deve pensare a un milione di corpi tutti uguali ma in realtà sono pochi corpi grandi con diametri di decino o alcune centinaia di chilometri e tantissimi corpi piccoli innumerevoli poi a un certo momento diventano talmente piccoli che è impossibile scoprirli da terra con un telescopio e quindi ad esempio si possono scoprire solamente quando ad esempio come nel caso degli asteroidi near earth passano abbastanza vicino al nostro pianeta altrimenti sono oggetti dei tutti invisibili anche le comete è un po' la stessa storia di comete ne conosciamo alcune migliaia ma in realtà si pensa che ce ne siano molte molte di più agli estremi confini del sistema solare nella cosiddetta nube di Oort solo che sono, visto che i nuclei cometari sono corpi dell'ordine della decina di chilometri di diametro e anche meno sono talmente distanti e talmente piccoli che le comete della nube di Oort sono assolutamente invisibili anche utilizzando i più grandi telescopi quindi diciamo la loro esistenza è dovuta a considerazioni sulle orbite delle comete conosciute e così via però diciamo complessivamente in tutto il sistema solare sono centinaia di miliardi i corpi minori diciamo stimati come popolazioni molto meno invece quelli conosciuti perché ovviamente possiamo scoprire solamente gli oggetti più grandi più vicini alla Terra quindi fare un censimento completo della popolazione dei corpi minori è impossibile possiamo fare delle stime e soprattutto cerchiamo di scoprirne il maggior numero possibile perché ci sono vari motivi dal studio scientifico alla sicurezza del pianeta Terra che ci consigliano caldamente di fare questa cosa beh in effetti lo studio degli oggetti che si avvicinano a noi è importante per conoscere meglio i nostri dintorni e anche potenziali potenziali rischi a proposito di questo recentemente nelle cronache si è parlato anche di un asteroide che per ora ha solo una sigla che si chiama 1998 OR2 che a fine aprile si è avvicinato abbastanza alla Terra e alcuni o meglio molti giornali televisioni ne hanno parlato parlando di un potenziale rischio per noi ma allora c'è veramente questo rischio c'è per questo oggetto c'è per altri beh nel caso di 1998 OR2 non c'era nessun rischio di collisione perché è vero che fa parte della grande famiglia degli asteroidi near Earth quelli prossimi alla Terra quindi quelli con le loro orbite passano molto vicino a quella del nostro pianeta ma nel caso di questo asteroide la distanza minima tra l'orbita della Terra e l'orbita dell'asteroide era e è tuttora di 2,3 milioni di chilometri e il 29 aprile quando ha fatto il flyby con la Terra l'asteroide è passato a ben 6 milioni di chilometri di distanza quindi diciamo non c'era nessun rischio di collisione e non ci sarà nessun rischio di collisione con la Terra per i secoli a venire per il semplice motivo che le due orbite non si interseca è ovvio che per avere una collisione l'orbita della Terra e l'orbita dell'asteroide si devono intersecare almeno in un punto in questo caso invece diciamo la distanza è sufficientemente ampia da impedire almeno per i prossimi secoli una collisione di questo tipo poi naturalmente le orbite degli asteroidi sono soggette alle perturbazioni gravitazionali dei pianeti e quindi cambiano lentamente con il tempo e quindi magari fra qualche milione di anni è possibile che il 1998 R2 possa collidere con la Terra ma i tempi scala diciamo sono dell'ordine dei milioni di anni quindi sicuramente per il momento non ci non ci dobbiamo preoccupare per questo esatto per quanto riguarda questo asteroide assolutamente no in realtà diciamo sono 20.000 circa gli asteroidi near Earth conosciuti e di questi nessun asteroide noto ha una probabilità di impatto con il nostro pianeta significativamente alta ok quindi non ci sono probabilità di impatto significative diciamo per i prossimi 100 anni per quanto riguarda gli asteroidi near Earth conosciuti quello che ci deve preoccupare invece è quello che noi non conosciamo perché questi 20.000 asteroidi sono solamente la punta dell'iceberg di una riserva di milioni di piccoli asteroidi dell'ordine della 50 100 metri di diametro molto difficili da scoprire ma che se cadessero sulla Terra potrebbero provocare delle diciamo distruzioni localizzate nella regione di caduta ad esempio è famosissima la famosa catastrofe di Tunguska del 30 giugno 1908 provocata dalla caduta di un piccolo asteroide di 50 metri di diametro oppure più recentemente la caduta dell'asteroide di Cegliabisch il 15 febbraio 2013 qui si è trattato in quest'ultimo caso di un asteroide di circa 15-20 metri di diametro che per fortuna è stato disintegrato dall'atmosfera terrestre è esplosa a circa 30 chilometri di altezza però comunque al suolo è arrivato un'onda d'urto che ha rotti i vetri delle finestre sono stati 1500 feriti della città russa di Cegliabinsk sono stati recuperati diverse centinaia di chilogrammi di frammenti di questo asteroide che sono poi meteoriti e quindi diciamo più che preoccuparci di quello che conosciamo diciamo siamo ragionevolmente certi che non ci siano rischi per quanto riguarda la popolazione di oggetti conosciuti almeno entro i prossimi cento anni dovremmo invece preoccuparci di più di quello che non conosciamo perché un piccolo asteroide di 50-100 metri di diametro in grado di provocare una catastrofe localizzata come quella di Tunguska in effetti potrebbe colpire la Terra in qualsiasi momento quindi anche per questo che è importante sviluppare le reti di telescopi al suolo e nello spazio per cercare di scoprire quanti più oggetti di piccolo diametro possibile perché sono questi quelli più numerosi e quindi quelli che è più probabile che colpiscano il nostro pianeta a proposito di Chelyabinsk mi hai fatto venire in mente che ne ho un pezzettino molto piccolo di tutte quelle meteoriti che sono state rinvenute è praticamente piccolissimo non credo che si veda molto nell'immagine però qualche duna è stata recuperata ne sono stati recuperati i pezzi anche più grossi però la cosa importante che mi sembra importante sottolineare invece è quella che riguarda un episodio più recente che è stato segnalato in provincia di Bologna nella zona di cavezzo proprio il giorno primo gennaio all'inizio dell'anno e so che tu sei stato coinvolto in questa ricerca sì perché ovviamente come vi ho detto prima più gli oggetti sono piccoli più sono numerosi quindi ancora più numerosi degli asteroidi da 50 a 20 metri di diametro sono i piccoli asteroidi di 2 3 metri di diametro o i meteoroidi dell'ordine del metro o 2 di diametro quindi oggetti molto piccoli che diciamo così quando entrano nell'atmosfera lo fanno generalmente a velocità di decine di chilometri al secondo e quindi vengono disintegrati all'interno della nostra atmosfera diventano incandescenti che sviluppano una scia di plasma a un certo momento si disintegrano però se sono abbastanza grandi e se non sono troppo veloci una parte del materiale di cui è composto il corpo può arrivare al suolo ed è proprio quello che è successo la sera del primo gennaio 2020 erano le 18 e 26 ora di Greenwich quando un piccolo oggetto di alcuni chilogrammi di massa è entrato nell'atmosfera terrestre con una inclinazione abbastanza elevata circa 68 gradi rispetto al suolo a una velocità di circa 12 km al secondo e ha cominciato a scendere negli strati più densi dell'atmosfera l'oggetto questo oggetto roccioso ha cominciato a consumarsi sotto l'effetto dell'attrito con l'atmosfera e giunto a una quota di circa 32 km ha avuto una prima frammentazione quindi in parte esploso i frammenti hanno continuato il volo e tutto il fenomeno il fenomeno del volide si è estinto a circa 21 km d'altezza questa scia luminosa in cielo è stata ripresa dalle telecamere all sky del progetto prisma che è un progetto coordinato dall'inaf che ha una cinquantina di telecamere distribuite un po' in tutta Italia che ha proprio come scopo la triangolazione dei volidi e la ricerca di eventuali meteoriti al suolo ed è proprio quello che è successo con questo volide elaborando i dati delle camere prisma facendo la triangolazione determinando l'altezza iniziale del volide l'altezza finale la sua velocità eccetera facendo tutti gli opportuni calcoli tenendo conto dello stato dell'atmosfera quella sera tirava anche un vento abbastanza intenso siamo riusciti a delimitare al suolo la zona dove potevano essere caduti alcuni frammenti di questo oggetto e il 4 gennaio grazie all'alert che Prisma aveva lanciato sui social sui giornali eccetera Davide Gaddi un ciclista passeggiando sull'argine del fiume Secchia alla ricerca dei frammenti come aveva letto sui giornali eccetera ha trovato un paio di meteoriti una più grande di una cinquantina di grammi un altro un piccolo frammentino un pochino più piccolo e erano proprio appartenevano al meteoroide che aveva generato il volide del 1 gennaio del 2020 e quindi dopo pochi giorni è stata ritrovata la meteorite che adesso diciamo è sotto analisi da parte del DINAF dell'Università di Firenze eccetera per diciamo determinarne le caratteristiche chimiche fisiche la composizione e così via e per cercare di capire ad esempio quanto tempo è stata esposta nello spazio se ha dei particolari minerali se è un tipo di meteorite comune oppure se è un tipo di meteorite esotica e le analisi sono in corso ovviamente però diciamo questa è stata la prima volta in Italia che è stata recuperata una meteorite in seguito alla triangolazione del volide nel nostro paese sono state recuperate circa una quarantina di meteoriti dalla notte dei tempi fino ad oggi ma tutte sono state trovate casualmente o ritrovate dopo anni dopo la caduta oppure ritrovate ma perché diciamo sono piombate davanti ai testimoni quindi senza nessun bisogno di triangolare lì era molto più facile ritrovarle lì era molto più facile erano oggetti grandi ad esempio penso alla meteorite di Alfianella ad esempio però quella del primo gennaio del 2020 è stato un evento proprio storico anche da questo punto di vista per l'astronomia dei corpi minori in Italia perché per la prima volta è stata trovata una meteorite dopo la triangolazione del volide quindi è stata trovata perché si è cercata nella zona che avevano indicato i calcoli e quindi questo è stato proprio un'enorme soddisfazione anche perché diciamo il software che fa triangolazioni voli buio e delimita lo stream feed quindi la zona dove andare a cercare al suolo l'ho fatto in gran parte io e quindi diciamo è stato motivo di grande soddisfazione vedere che dopo anni di sforzi dopo anni passati lì a digitare codice al computer alla fine si è materializzato veramente in un risultato concreto che ha avuto veramente importanza anzi posso fare vedere questa non è la meteorite Cavezzo ovviamente questa è una meteorite africana in realtà questa però è molto bella perché fa capire un pochino come è fatta una meteorite noi come Prisma riceviamo continuamente email di persone che ci segnalano dei sassi sospetti che sembrano delle meteorite prima vista ma che in realtà poi si dimostrano pietre comuni in realtà una meteorite si distingue da una pietra comune qui forse si vede abbastanza bene perché è circondata è ricoperta da una patina scura ma sotto invece l'oggetto è molto molto più chiaro la matrice della meteorite vera e propria è molto molto più chiara quindi sotto c'è diciamo il frammento di meteoroide che ha attraversato l'atmosfera eccetera eccetera e poi c'è questa crosta che ha sopportato temperature di alcuni migliaia di gradi durante la caduta nell'atmosfera e quindi è stata diciamo in un certo senso carbonizzata dall'inteso calore però una meteorite autentica si riconosce abbastanza bene perché si scaltisce leggermente la crosta di fusione la patina brunastra sotto si vede che ha tutto un altro colore e quindi ad esempio questo non succede per le pietre terrestre che quando vengono scalfite dentro si dimostrano uguali alla superficie quindi è un modo abbastanza rapido per capire se un oggetto trovato che sembra strano che sembra un sasso strano potrebbe essere una meteorite oppure se invece non è non è non lo è nel dubbio in ogni caso sempre meglio segnalare alla rete prisma che vi potrà dire se si tratta di una meteorite oppure no una rete prisma che appunto ha segnato un grosso successo proprio rinvenendo quella di cavezzo basandosi sui calcoli quindi questo qui è sicuramente un risultato di tutto rilievo bene in conclusione di questi incontro ti ringraziamo per le spiegazioni su questi argomenti che sono di grande interesse per tutti che sicuramente sono affascinanti e coinvolgenti però ti chiediamo ancora un ultimo sforzo ti chiediamo di lasciarci qualche riferimento per chi fosse interessato e vuole approfondire l'argomento però prima di chiedertelo ti voglio prevenire perché so che appunto non è mai bellissimo farsi l'autocitazione l'autopromozione non tutti sono sono pronti a farlo ma e quindi ti precedo perché tu gestisci da alcuni anni un blog su internet che è estremamente interessante che si chiama asteroidi ed intorni ed è una fonte direi quasi inesauribile di informazioni approfondimenti su tutto ciò che riguarda gli asteroidi le comete appunto asteroidi ed intorni perché il blog è molto interessante perché non si limita a dare le ultime notizie ma soprattutto approfondisce gli argomenti e spiega che cosa c'è dietro le notizie che magari leggiamo su sulle rivise sui giornali o nei vari siti internet quindi detto questo che è un sito estremamente importante a te invece chiediamo di segnalare qualche cosa di altri autori sì ti ringrazio per avere citato il mio blog allora vi ho preparato diciamo alcuni testi che per chi vuole approfondire il discorso corpi minori formazione del sistema solare eccetera sono importanti comunque diciamo sono un buon punto di partenza poi ovviamente si può sempre approfondire il primo è di Ettore Perozzi si intitola il cielo che ci cade sulla testa impatti cosmici e incontri ravvicinati è un libro del 2016 e come si capisce dal titolo parla degli asteroidi che costituiscono un rischio impatto per la terra Ettore Perozzi è diciamo un esperto di meccanica celeste lavora all'ASI l'agenzia spaziale italiana e quindi diciamo è sicuramente una delle persone più indicate per descrivere il problema del rischio impatto degli asteroidi con la terra e ovviamente il cielo che ci cade sulla testa diciamo è in senso figurato ma in realtà sono gli asteroidi che ci possono colpire cadendo dallo spazio l'altro libro molto interessante anche se è un pochino corposo ma diciamo vale la pena affrontarlo tutto quanto è di due autori stranieri Chambers e Newton si intitola dalla polvere alla vita l'origine e l'evoluzione del nostro sistema solare è un libro del 2016 e passo passo spiega come appunto dalla polvere dalla nube protoplanetaria di gas e polvere di 5 miliardi di anni fa si sia arrivati al sistema solare attuale con gli 8 pianeti milioni di asteroidi comette e corpi minori e diciamo la spiegazione viene fatta passo passo quindi non si danno per scontato le cose pur rimanendo sempre a un livello accessibile discorsivo eccetera ma gli autori cercano di fare capire i meccanismi che hanno portato alla formazione dei pianeti alla formazione della terra e così via quindi diciamo una lettura per cercare di capire dietro le quinte della nascita e di evoluzione del nostro sistema solare ovviamente non è una lettura diciamo semplicissima da spiaggia diciamo così va meditata però comunque ne vale la pena perché alla fine del libro uno ha un'idea abbastanza precisa di quello che è successo da 5 miliardi di anni fino ad arrivare ai nostri giorni e infine l'ultimo libro è di Cesare Guaita e parla delle comete infatti si intitola l'esplorazione delle comete da Alley a Rosetta è del 2015 quindi è un libro abbastanza aggiornato anche se diciamo le conoscenze sulle comete sono state rivoluzionate dalla missione Rosetta che comunque diciamo il libro contiene una parte dei risultati di questa importante missione però per chi vuole capire che cosa sono le comete quali sono i meccanismi fisici che avvengono alla loro superficie tutta la complessa chimica cometaria come mai si sviluppi una chioma da dove vengono le code delle comete eccetera è una lettura estremamente consigliata anche se non facilissima quindi diciamo il lettore si deve armare di spirito di diciamo approfondimento per cercare di capire tutte le tantissime informazioni che Guaita ci racconta sulle comete però alla fine della lettura diciamo si capisce un pochino meglio quello che è il fenomeno cometa che diciamo sono fra gli astri più complessi che abbiamo nel nostro sistema solare per quanto riguarda ad esempio le dinamiche interne di superficie e quant'altro assieme agli asteroidi che anche loro presentano delle caratteristiche non sempre ben comprese nonostante diciamo l'utilizzo di sonde spaziali telescopi di grosso diametro eccetera asteroidi e comete nascondono ancora una parte dei loro segreti però comunque e questo è il bello della ricerca scientifica avere sempre cose nuove da capire e da scoprire ogni volta che si fa una scoperta in realtà si risolvono alcuni misteri e ne nascono altri e quindi nasce l'esigenza di andare avanti e scoprire ancora di più esattamente benissimo allora ti ringraziamo per la tua disponibilità ti rinnoviamo i complimenti per il ritrovamento della meteorite di cavezzo e a tutti diamo l'appuntamento a un prossimo astro cocktail di polaris arrivederci a tutti grazie a tutti